Buongiorno a tutti, io sono Lodovico Dinkau e questa è la Masterclass di Power BI Desktop Bar Service. Quest'oggi siamo alla terza lezione e andremo a vedere praticamente le opzioni del nostro software. Allora, come facciamo ad accedere alle opzioni di Power BI per andare a fare delle configurazioni custom per il nostro utilizzo specifico? Andiamo nel menu File che c'è qua su e qui troviamo il bottoncino Opzioni e Impostazioni. Qui troviamo due voci, Opzioni e Impostazioni Origine Dati. Allora, questa la vedremo in un secondo momento quando faremo delle importazioni con Power Query. Adesso ci concentriamo solo sulle opzioni che sono appunto le opzioni del nostro software Power BI Desktop. Allora, accediamo qui e praticamente si apre questo pannellino. Qui vediamo sulla sinistra che praticamente abbiamo due schede globali e file corrente. Significa che ovviamente se noi andiamo a fare una modifica a queste opzioni qua, sotto l'area globali, la faremo a livello di applicazione. Quindi qualsiasi nuovo file andremo a creare avrà queste impostazioni di default applicate. Quindi se noi le cambiamo saranno cambiate per tutti i nuovi file. Invece se andiamo su file corrente, quello che noi andremo a flaggare qua, verrà fatta una forzatura specifica sul singolo file che stiamo utilizzando in questo momento. Quindi vanno sopra alle impostazioni globali. Queste hanno la precedenza se andiamo a modificarle. Quindi partiamo dall'alto, vediamo le globali, perché alla fine i file correnti sono similari, sono un po' di meno. Perché non si possono applicare le globali sul file corrente, ad esempio R e Python, gli script, sono una cosa generica. Anche la sicurezza è una cosa generica, quindi è comunque a livello globale. Quindi sul file corrente vedremo meno voci, ma quelle che ci sono alla fine sono identiche a quelle che troviamo sopra. Solo che appunto, ripeto, sono specifiche per il file in uso in questo momento. Quindi andiamo su caricamento dati. Quindi vediamo praticamente solo le opzioni che io vi consiglio di modificare. Allora, il rileva tipo va benissimo, così com'è. Praticamente è appunto la parte di quando noi importiamo i dati in Power Query e lui decide un po' come gestire la formattazione, eccetera. Quindi va benissimo l'impostazione di default che Mike sta scelto. Su dati in background, ecco, io questa qui di solito la cambio. Perché non mi piace, nel senso che cosa dice? La prima, quella di default dice, consenti il download delle anteprime dei dati in background in base alle impostazioni di ogni file. Quindi in base all'impostazione di ogni file che io sono andato qua e ho deciso come gestire appunto i dati in background, vedete che è un po' differente qua. Vedete, consente il download delle anteprime dei dati in background, ok? Quindi lui qui le scarica. E quindi appunto è un'impostazione che a me non piace. Io preferisco, adesso vi spiego anche che cos'è, non consentire mai il download delle anteprime dei dati in background. Oppure c'è sempre, consenti sempre il download delle anteprime dei dati in background. Io metto questa perché? Perché quando andiamo in Power Query, ogni volta che io apro Power Query lui fa il download in automatico, in background, quindi voi potete lavorare ma non intanto le scarica, dei dati aggiornati. Allora io invece mettendo non consentire mai il download delle anteprime dei dati in background, scelgo io con il pulsantino Azzorna dati quando voglio vedere l'anteprima dei dati che sto vedendo aggiornata a quei dati che ci sono a sistema. Altrimenti lui me lo fa in automatico e dopo quando passate da una query all'altra dovete stare lì ad aspettare che praticamente lui faccia il download per portare ad andare a lavorare sugli oggetti. Invece se fate clic qua è praticamente istantaneo, decidete voi quando fare il refresh dei dati, ovviamente dovete ricordarvi di farlo se state facendo, se state lavorando con dati odierni che guarda magari la data di oggi eccetera. Però è comodo, vi velocizza un po' secondo me sulla gestione di Power Query. Un'altra cosa che a me dà molto fastidio che c'è anche su Excel di default, non ho mai capito perché lo attivano sempre in automatico. Qui c'è funzionalità business intelligence per leggere artiglie temporali, vediamo anche il commento, qui dice che praticamente crea per i nuovi file, per impostazione prefinita crea automaticamente una tabella nascosta però in campo del modello, praticamente di tipo data e data ora. Praticamente questo è quello che quando voi avete una data, che cosa fa? Vi mostra praticamente la data, il mese, l'anno, il quarter e così via. Però tendenzialmente io sconsiglio di lavorare con questa opzione qua perché ogni volta che lui trova una data mi crea questa gerarchia con tutte le dimensioni sotto che può avere anche una comodità se volete. Però generalmente quando andiamo a fare un modello tendenzialmente questa io la disattivo sempre perché la odio proprio, non voglio che mi crei colonne in automatico senza che io lo richieda perché di solito si usano le tabelle calendariali. Quindi tendenzialmente nel nostro modello ci sarà sempre una tabella del calendario a cui noi agganceremo la data e la tabella del calendario sarà fatta come diciamo noi. Avrà anche molte più informazioni rispetto a quelle che Power BI stessa andrà a creare nella gerarchia. Può essere utile se fate cose piccoline e non volete per forza di cosa utilizzare una tabella del calendario comunque vedremo più avanti nel corso. Io comunque questo lo disattivo ok perché altrimenti quando avete una data si splitta con una gerarchia che ha più dimensioni. Sotto abbiamo praticamente la gestione della cache. Vediamo anche qua praticamente qui che cosa dice questa è la cache praticamente di Power Query. Quando noi andiamo a importare i dati o a vedere le anteprime diciamo io ho una cache che è impostata a 4096 e qua dice che consiglia praticamente di non andare sotto ai 32 mega. Allora va benissimo anche lasciarla a 4 giga e 100 mega. Però ogni tanto controllate se soprattutto se macinate tanti tanti record perché la cache che cosa serve? Quando voi fate lo scarico dei dati li mette sul vostro disco rigido e quando voi accedete al dato è più veloce perché l'ha recuperato dal sistema e l'ha messo in locale. Ovviamente se poi i dati cambiano deve andare a rinfrescare la cache e tendenzialmente questo spazio qua aumenta 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 sempre di più. Quindi vi vedrete il vostro disco rigido e il vostro disco C del computer quindi proprio se noi andiamo qui e andiamo proprio su risorse del computer ok. Poi vedrete il vostro disco C che man mano che utilizzerete tanti file e che magari avranno milionati i record comincerà sempre ad abbassare sempre di più lo spazio libero. Appunto perché magari i file Power BI Desktop perché ogni file ha una sua cache sta iniziando a buttare giù cache di dati, cache di dati. Quindi ogni tanto è utile controllare questa cosa qua manualmente e fare cancella cache così quando voi avrete cancellato la cache tutti i dati che sono residenti all'interno del vostro modello vengono praticamente cancellati solo la cache quindi per fare i recuperi di dati veloci quindi liberate appunto lo spazio sul disco. sotto avete un altro tipo di cache ancora vedete opzioni per cache domande e risposte anche qua qui potete praticamente attivarlo o non attivarlo ma comunque diciamo che Power BI è orientato anche al linguaggio nel senso che io potrei fare una domanda anche verbale oppure la scrivo e lui in base alla domanda che vado a fare fa un'interpretazione di dati che ci sono nel nostro modello e mi presenta una dashboard in automatico quindi senza neanche che io la vado a realizzare. È ancora giovane la tecnologia però insomma probabilmente vediamo un po' come evolverà nel futuro però quando io vado a gestire le domande anche qua viene generata una cache e quindi anche questa potrà portarvi via dello spazio ovviamente se non fate domande né vocali né scritte ovviamente questa cache non andrà a popolarci. in ogni caso anche qua la potete controllare sullo specifico file pbx. Qui stiamo parlando sempre della Power BI desktop non c'entra niente la service. sotto invece troviamo un'ultima cache che è praticamente opzioni della cache di artefatti di tipo fold allora se andiamo qui praticamente lui dice una cache di query di tipo fold per le query direct query legacy è archiviata e usata per un'unione delle prestazioni anche qua è sempre una cache eventualmente anche qua sono quando andate a fare connessioni di tipo direct query che probabilmente non le farete mai a meno che non vi colleghiate a un sistema legacy oppure a un'analisi di service o cose così ma comunque eventualmente anche qua c'è una cache, sono tutte cache che praticamente sono luoghi che lui va a depositare dati sul disco quindi è sempre meglio io ogni tanto passo e le svuoto così mi tengo il pc bello libero perché poi il disco si sta presto ad esaurirlo soprattutto se lavorate in un terminal serve magari in cloud con tante altre persone vi vedete magari un disco da 512 giga o anche da un terra che a un certo punto arriva verso lo zero perché nessuno fa la manutenzione dei propri file questo è un po' un peccato quindi attenzione a queste cose diciamo che questo caricamento dati è il menu forse più importante di tutti che vale la pena andare a guardarlo e configurarselo come meglio a voi piace insomma Editor di Power Query qui praticamente lasciamo più o meno tutto quello che c'è facciamo solo una modifica praticamente a me piace mettere praticamente la spaziatura fissa che è questo flag qua, vedete, anteprima dei dati quando io sono in Power Query e ho importato dei dati, lo vedremo nelle prossime lezioni vedremo praticamente la nostra tabellina con tutti i nostri campi se io ho questo flag che di default è disattivato io posso avere una O, una lettera O che è più larga di un carattere con la lettera I e allora quando mi trovo in questa condizione qua io faccio fatica a capire a colpo d'occhio se il mio testo è composto da 5 caratteri piuttosto che da 2 e da 15 no? perché ho larghezze diverse dei caratteri invece se io attivo questa cosa qua la I avrà una spaziatura del carattere che sarà identica alla O quindi lui fa proprio una spazzatura fissa tre caratteri, tre lettere O saranno sempre larghe visivamente come tre lettere I quindi non saranno schiacciate se andate ad attivare questa opzione quindi questa ve la consiglio che è molto utile secondo me poi quando si va a lavorare quelle sotto le lasciamo così com'è direct query qui lo saltiamo script R e python sono script che al momento io non conosco quindi li salto sicurezza allora questa qui io qui generalmente disattivo richiedi l'approvazione dell'utente per le nuove query native sul database voi fate il file pbx, il vostro report poi lo passate a un collega perché lo deve modificare quando va a fare il refresh di dati esce un messaggio fastidioso che deve andare a confermare che va a fare un recupero per la prima volta col suo utente dal database disattivando questa cosa qua eviterete questo fastidio quindi quando andate a lavorare in gruppo io lo disattivo qua è un po' una scelta insomma potete anche lasciarlo attivo però a me dà un po' fastidio questa cosa qua soprattutto lavorando in gruppo quindi di default io vado a disattivare questa opzione qui il discorso certificati lasciamolo così com'è il livello di avviso dell'anteprima web io qua di solito metto nessuno anche qua lui dice restrittivo visualizza sempre un avviso prima di mostrare un'anteprima web praticamente io vado a fare un'anteprima e lui mi mostra un avviso se lo metto restrittivo invece se lo metto in moderato visualizza un avviso prima di mostrare un'anteprima web su url poi vediamo nessuno non visualizza mai un avviso prima di mostrare un'anteprima web praticamente io tutti i messaggi che lui mi butta fuori che tanto dopo vado a confermare con ok perché se vado a fare un'anteprima web sono coscienziente di quello che faccio ok non voglio che mi compagnano i pop up quindi io qua vado a disattivarlo così ho meno disturbi mentre lavoro poi sotto lasciamo così com'è questa qui potrebbe essere interessante io al momento non le sto utilizzando praticamente archegis per power bi se noi andiamo ad attivare queste praticamente ho anche preparato la pagina sono praticamente potete andare ad utilizzare delle mappe differenti nel senso in aggiunta vedete dopo trovate anche praticamente questo link ve lo metto sotto in descrizione al video se volete approfondire con calma e leggervi l'articolo praticamente è una visualizzazione di dati personalizzati incorporata in Microsoft Power BI che consente di utilizzare le funzionalità di mappatura nei report e nelle dashboard vedete che potete andare giù veramente molto in dettaglio con questa opzione qua infatti vedete qua vi da dopo andiamo avanti abilitare i dati per la geografia in modo più preciso visualizzare i dati utilizzando temi mappe intelligenti creare selezioni basate su area comprendere i dati demografici delle aree desiderate quindi vi da delle cose in più e qua ci sono diverse informazioni comunque eventualmente ve lo potete leggere con calma quindi se volete le andate ad attivare io potrei anche lasciarle attivate anche se non le utilizzo poi il menu della privacy anche qua praticamente io qui generalmente metto ignora qui avete il link per fare l'approfondimento se cliccate qua io vi ho già aperto la pagina arrivate qua praticamente andando nel breve vedete che qui subito dopo poco vi spiega praticamente le tre differenze allora anche qua anche su Excel io consiglio sempre di metterlo su praticamente sull'opzione ignora perché è sempre una questione di pop up che poi compaiono e a me danno sempre fastidio anche perché generalmente almeno come lavoro io io ho il mio software che va a prendere i dati su un sistema ad esempio un SQL server che è protetto con le sue autorizzazioni quindi diciamo che non ho di questi problemi però se andiamo a recuperare i dati su Facebook ad esempio ok che è proprio l'esempio allora forse è consigliabile mettere privata quindi se andate a fare i recuperi dal web magari è consigliabile mettere privata per avere una gestione del dato un po' più sicura comunque io consiglio di impostarlo su praticamente pubblica e gestire le credenziali tutte dal database quando si va a fare il refresh di dati eccetera così abbiamo meno fastidio postazioni internazionali possiamo lasciare tutto cos'è così attenzione separatori DAXE arrivate da PowerPivot di Excel cambia un attimino la punteggiatura non ci sono le virgule ma ci sono i punti dopo lo vedremo quando faremo qualcosina di DAXE le formule sono sempre quelle il DAXE è sempre quello anzi è più evoluto però cambia leggermente quella punteggiatura rispetto all'Excel aggiornamenti qui di default ci dice quando il software è aggiornato come vi dicevo bisognerà aggiornare manualmente il software spero ancora per poco insomma ma diciamo che qui ci avvisa quando il software è da reinstallare i dati di utilizzo qui io lo disattivo perché altrimenti io invio dati a Microsoft di quello che sto facendo non arrivano dati sensibili ovviamente però è una cosa che a me personalmente non piace tanto diagnostica questa cosa qua probabilmente vi servirà se dovrete andare a comunicare con Microsoft che magari vi chiederà di fare dei dump dei file e praticamente si fa da qua lui fa la raccolta di quello che succede all'interno del software perché magari trovate dei bug o succede delle cose strane abilitando questa cosa qua lui crea un file che ha dentro un miliardo di informazioni che dopo a loro è utile per poter fare le analisi e capire che cosa c'è che non va nel software comunque non andiamo a toccarlo funzioni e funzionalità in anteprima adesso lo vedete così però questo nel tempo va a cambiare diciamo che qui ci sono già delle cose attivate in automatico e tante altre sono disattivate tutte queste cose qua sono praticamente le cose che stanno sviluppando e quindi poi prima o poi entreranno in modo nativo nel software nel senso che entreranno in un modo standard sono appunto in anteprima quindi potrebbero anche avere dei problemi voi se volete provare cioè avere il software con dentro tutto vi attivate tutto e compariranno tutte le varie opzioni però sapete che appunto ripeto potreste avere un po' di fastidio perché magari ha qualche problema il componente su altre informazioni per ogni componente che trovate potete premere si apre la pagina che vi spiega che cosa gestisce appunto questo componente nuovo che stanno integrando ovviamente questo ripeto cambia di continuo quindi non stiamo neanche andare a guardare che cosa sono questi oggetti qua eventualmente li potete approfondire in autonomia l'ipristino automatico è più o meno una cosa come il salvataggio automatico allora io ormai da anni ho capito che devo sempre farmi copie dei file io tendenzialmente questa cosa qua la disattivo perché è una cosa che mi dà fastidio che lo faccia lui in automatico però se siete distrati siete attenti a farvi salvataggi di file ogni quarto d'ora a mezz'ora che basta fare copia e incolla del file io faccio copia e incolla versione 1, 2, 3, 4, 5 in modo che me ne tengo sempre almeno una decina perché non si sa mai che cosa succede tra una versione e l'altra ok e sono a posto questo qua praticamente ve lo fa più o meno in automatico quindi anche qua se volete attivare anche questo qua sotto vi mantiene l'ultima versione di ripristino automatico in caso di chiusura senza salvataggio quindi voi chiudete se poi li dite salva no lui comunque tiene una copia e le mette dentro in questa cartella qua io comunque qua disattivo se siete distrati attivate tutto in prestazioni del report qui lasciamo praticamente così come anzi qui attenzione esegui sempre proprio via i dextro con il supporto ottimizzato per assistente vocale anche questa per adesso secondo me non ha un gran senso però se volete provare l'assistente vocale lo attivate basta queste sono le impostazioni globali poi qua sotto sono molto similari non sto neanche a passarle eventualmente se volete cambiare qualcosa per lo specifico file entrate qui ve le leggete e cambiate quello che volete cambiare rispetto a quello che c'è qua sopra bene anche con questa lezione è tutto vi ringrazio molto per avermi seguito lasciate un like al video se è stato di vostro gradimento iscrivetevi se non siete ancora iscritti e se avete voglia di sostenere il canale magari pensate a stipulare un abbonamento premendo il bottoncino abbonati che c'è qua sotto al video grazie ancora per avermi seguito alla prossima lezione a presto ciao ciao